E allora ce l'abbiamo fatta! Ti sei iscritto o iscritta? Ti ringrazio per la fiducia, però mi raccomando ci dobbiamo vedere perché altrimenti l'iscrizione non serve a nulla. Quindi mi raccomando ti arriverà un sms o una mail, intanto subito aprila perché è necessario che tu controlli e poi subito dopo, credo 15 minuti prima dell'evento, ti arriverà la mail di preavviso con il link da verificare, quindi questo è assolutamente importante perché in quel momento staremo insieme, in quel momento potremo fare grandi cose, insomma, a perlomeno portarci a casa qualche informazione in più. Se poi ovviamente vorrai fare qualcos'altro durante il webinar o probabilmente già da subito potrai già vedere delle altre cose che magari faccio, tipo le bucche di acido lattico, è importante anche capire qualche riferimento, e poi subito dopo il webinar, la possibilità di entrare in un percorso più efficace, più avanzato, magari so che dure un po' di più, dove potrai stare con me nel team per 90 giorni, con domande e risposte e quant'altro, ma lo vedremo dopo il webinar, perché quella è una cosa in più. Adesso occupiamoci di questo, ti aspetto il 24 aprile alle ore 21, esatte! Ciao! Ciao!